Vostro onore, quella persona lì al banco degli imputati è vittima di un grave errore giudiziario. Io voglio che sia rispettata la sua volontà, perché lui mi ha detto voglio cambiare giudice, voglio cambiare giudice, voglio cambiare giudice. O cambiamogli questo giudice. E che ci costa? Ma scusi tanto, ma lei non è dell'accusa? E che si mette a difendere l'imputato ora? Sì, sono dell'accusa, ma perché? Che c'è di male? Ah sì, eh? Voglio sentire dall'imputato, ma mai vuoi cambiare giudice. Con molto piacere. Quali sono i motivi per cui lei vuole cambiare giudice? Prima di tutto mi interrompa quando parlo. Secondo a me questo giudice non mi piace. Un nemmio tipo, è troppo vecchio, ma anche lei, Mason, si guarda allo specchio. Fa schifo. Ma guardi Bellino invece l'avvocato dell'accusa. Grazie, molto gentile. Un momento, ma allora voi due siete gemelli. Vede Mason, lei non ha capito. I tempi cambiano, lei continua con questa procedura antiquata. Io sono l'imputato e lui è l'accusa, ma noi non siamo gemelli. Siamo la stessa persona. Beato che ci capisce qualcosa. Avvocato, ma siete la stessa persona o no? Non esattamente. È più corretto dire che siamo la stessa entità piuttosto. Entità? Ma qui si va sui paranormali. Ma quando mai? L'è tutto normalissimo. Insomma, che me lo cambia questo giudice o devo diventare una bestia? Io mi sono rotto le scatole. Voi a casa. Allora, ieri avevamo un problema di forma che però abbiamo brillantemente risolto e quindi possiamo senz'altro procedere. Nostro onore, oggi propongo di cambiare l'avvocato Mason, che è l'ultimo rimasto. Ti pareva. Vorrà mica fare anche il pubblico. Ma guarda qualche lavoro. Non ci posso credere, ma sono identici. O come si fa a lavorare in questo modo? Mi oppongo. Mi oppongo a questa procedura. Ecco, non ci mancava l'opposizione ora. È vero, nostro onore. L'opposizione ci rompe le scatole. Porca della miseria. Qui ci vorrebbe ma un esorcista.